E' la sfera, come quelle dorate ed argentate dell'installazione ideata da Beppe Angiolini, che accoglie espositori e compratori all'ingresso di Arezzo Fiere Congressi l'elemento simbolo della quinta edizione di Gold Italy, la tre giorni curata da IEG, dedicata al gioiello rigorosamente Made in Italy. La sfera ed il cerchio simboli di questa edizione 2017 saranno anche protagonisti di tutti gli eventi legati al tema del gioiello senza tempo, uno su tutti il concorso Create Your Love. Create Your Love è un tema legato all'amore, legato all'infinito, legato a un gioiello per sempre, questo è il messaggio più bello. Io credo poi che è importante legare questa manifestazione alla città, Arezzo è una città bellissima, una città con grandi opere d'arte, con cose prestigiose. Partendo dal cerchio elemento chiave anche delle sinacole, un prezioso monile del passato, i designer delle aziende espositrici 300 in tutto hanno creato una collana che trasmette un sentimento legato all'amore e all'infinito, al concetto del senza tempo e del per sempre. La cerimonia di premiazione del concorso si svolgerà domenica 22 ottobre. L'Italia vince per la fantasia, vince per la creatività, tutti i nostri cugini francesi non solo vengono a produrre qua in Italia, le nostre mani, le nostre artigianalità, il nostro saper fare è imparagonabile. Abbiamo una creatività, una fantasia rispetto agli altri, non per fare il... però è totalmente diverso, siamo i più bravi, non c'è niente da fare.